Eccoci amici, bentrovati, bentrovati, l'appuntamento con l'informazione di TeleIblea sul canale 89. Dobbiamo aprire ancora una volta parlando del Parco degli Iblei, perché sono arrivati dei resoconto sulla riunione che c'era stata martedì, quindi l'altro ieri, ma piuttosto un'audizione che si è svolta presso la Commissione Ambiente Regionale. L'onorevole Campo, che si è fatto promotore di questo incontro, lo vediamo in questa foto, che ha cercato di far capire quali sono le ragioni del Parco. In il suo comunicato l'onorevole dice una cosa che però secondo me è abbastanza preoccupante, perché l'onorevole avanza ancora una volta questa discussione, cioè questo analizza il punto di coloro che sono avversari nel Parco, e dice ma come può un Parco essere deleterio per il territorio? Allora io mi chiedo, ma se sindaci, associazioni di categoria, produttori, agricoltori e tutti quelli che lavorano in questo territorio sono molto preoccupati e chiedono a gran voce che il Parco non vada avanti, come può simpaticamente un onorevole, che però certo non produce, non ha un allevamento, non fa il caciocavallo e cose del genere, come può dire che non crea nessun problema? Se non creasse nessun problema, certamente sarebbero tutti d'accordo. Quindi non è così, è chiaro che il Parco è un limite all'economia, ma soprattutto dove è il limite? Nel fatto che fino ad oggi tutti coloro che hanno operato in questo splendido territorio non hanno creato nessun problema al Parco. Quindi cosa vuol dire? che sanno come gestirlo, sanno come mantenerlo e non c'è nessun motivo di aumentare i limiti per il Parco. Quindi questa voglia di minimizzare da parte dell'Onore Campo e di qualche altro, secondo me è sbagliato. C'è poi un intervento di Lega Ambiente. Lega Ambiente ha puntato su un altro argomento, dicendo ormai l'iter è concluso. Ma è anche vero che l'iter è concluso, ma avendo acquisito agli atti decine e decine di posizioni contrarie. Allora, se l'iter è concluso, secondo loro, e ci sono tutte queste posizioni contrarie, ma chi è che non le ha prese, non le ha considerate, non le ha calcolate? Si può andare avanti in una decisione dove ci sono moltissime posizioni contrarie? Quindi questa è la verità. Ora, noi non sappiamo nulla, c'è una preoccupazione sola, che è quella avanzata ancora dalla Campo, che dice, ah sicuramente c'è qualcuno per interessi politici. No, non sono interessi politici che vogliono fermare il Parco, sono interessi economici. Ma non interessi economici di gente che vuole speculare, ma piuttosto interessi di semplici operatori, lavoratori, agricoltori che vorrebbero continuare a lavorare e che hanno la paura di non poterlo fare proprio perché il Parco sarebbe un problema per poter continuare a lavorare. Questa è la realtà dei fatti. Ora, c'è anche da dire che non c'era praticamente nell'assessore, l'assessore all'ambiente, c'erano un paio di deputati, non c'era l'assessore all'ambiente, che non c'è stato. Perché non c'era l'assessore all'ambiente? Se fosse un argomento così interessante, certamente l'assessore aveva fatto di tutto per andarci. Io non lo so, non voglio fare nessuna illazione, ma io vi posso assicurare che conoscendo gli sviluppi economici che ci possono essere in questo Parco, anche io sono fortemente contrario e l'ho dimostrato fino a ora e continuerò a dimostrarlo. Il Parco, il territorio è straordinario, bellissimo così, lo abbiamo mantenuto così, siamo riusciti a tenerlo così. Non vedo per quale motivo bisogna ancora di più metterlo in difficoltà che poi alla fine è come quando uno deve sorpassare, sapete, ti metti dietro un camion e aspetti là un'ora, due ore, cioè un'ora, fai 20-30 km, poi a un certo punto sorpassi e c'è anche il pericolo di combinare qua. E non vorrei che poi alla fine con tutte queste limitazioni qualche agricoltore decidesse di cambiare il registro. Allora, questa è la giornata del Parco e si fa il paio anche con quello che ha detto Nello Di Pasquale ieri perché si sta verificando una nuova realtà nei nostri territori, cioè i grandi latifondisti, no? Cioè oggi sta accadendo che gli investitori stanno comprando i terreni che gli agricoltori non riescono più a mantenere e questo farà sì che cambierà il sistema economico della nostra area dove c'erano tanti agricoltori e questo è un rischio. È più pericoloso questo che il parco, è più pericoloso il fatto di non aiutare gli agricoltori a portare avanti le loro proteste, non aiutarli quando hanno bisogno di interventi, quello è la cosa più difficile da fare, certamente. E ora, da qui cambiamo argomento e passiamo a quello che è l'argomento principale di oggi che è questa giornata dedicata all'università. Vediamo appunto le immagini.